Ciao ragazzi, oggi vi voglio raccontare la storia di questa foto. Questa foto non è una foto qualunque, ma una foto che arriva bensì dal futuro. Infatti io nel futuro mi sono visto con questo mazzo di carte e mi sono visto mescolarlo in questo modo. Poi gli davo un taglio e andavo a prendere una carta qualsiasi, un punto qualsiasi del mazzo. La mettevo qui da parte. Poi andavo nuovamente a tagliare il mazzo in questo modo e andavo a formare un primo mazzetto. Poi formavo un secondo mazzetto più o meno delle stesse dimensioni del primo. Andavo a mescolare nuovamente tutte le carte e andavo a creare un terzo mazzetto. Poi mescolavo un'ultima volta le carte e formavo un quarto mazzetto. Ora in cima a questi quattro mazzetti nel futuro ho visto che c'erano proprio un 9 di quadri, un jack di fiori, un 3 di picche ed un 7 di cuori. Vi dico questo perché appunto questa foto che arriva esattamente dal futuro riporta proprio un 7 di cuori, un 3 di picche, un jack di fiori ed un 9 di quadri. Ma non solo, questa carta che era stata messa qui da parte è stata fotografata anche lei ed è proprio un 5 di picche. E questa è la prova che questa foto arriva proprio dal futuro. Bene ragazzi, spero che l'effetto vi sia piaciuto. Se così fosse vi chiedo di mettere un bel like ed iscrivervi al canale. Come saluti conclusivi vi invito anche ad andare a visitare il canale di un mio amico che si chiama Summa Sei Tu. In questo canale troverete dei video di magia presentati in uno stile unico e divertente. Troverete tante recensioni di mazzi e non solo, troverete anche dei video riguardanti l'ipnosi. Vi lascio il link in descrizione o nelle schede finali in collegamento diretto al canale. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!